Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica abbiamo la grazia di celebrare l'assunzione al cielo di Maria, questo evento meraviglioso. La Vergine Maria, subito dopo la morte, è stata assunta al cielo da Dio, cioè è andata in paradiso con l'anima e il corpo nell'integrità della sua persona. Papa Francesco ha ricordato che quando l'uomo sbarcò per la prima volta sulla luna disse una frase che divenne famosa, questo è un piccolo passo per un uomo ma un grande balzo in avanti per tutta l'umanità ed effettivamente è stato un traguardo storico ma nell'assunzione di Maria in cielo, celebriamo una conquista infinitamente più grande. La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso e non c'è nata solo in spirito ma anche con il corpo, con tutta se stessa e questo è il grande balzo in avanti dell'umanità. E come cari servirebbe a poco andare sulla luna se dopo la morte non potessimo andare in paradiso? Sarebbe poca cosa andare a vivere su Marte se non impariamo anzitutto a vivere da figli di Dio e da fratelli e sorelle gli uni degli altri. Ecco l'assunzione al cielo della Vergine Maria come ci ha ricordato il concilio Vaticano II anticipa ciò che sarà la chiesa ed è segno di consolazione e speranza. Anche a noi Gesù ha promesso la risurrezione del corpo, alla fine dei tempi quando egli tornerà vi sarà la risurrezione di vita per coloro che saranno per sempre con lui è la risurrezione di condanna, preghiamo per nessuno, la risurrezione di vita, cioè i corpi verranno risuscitati, si riuniranno alla nostra anima, ovviamente i corpi saranno trasfigurati, gloriosi, belli, eterni, per sempre nell'eterno gaudio con lui nella gioia del cielo, dove non ci sarà più né morte né lutto né pianto né lamento. Ecco l'assunzione al cielo di Maria anticipa ciò che sarà la chiesa, pensate che cosa grande, e ci riempie di consolazione e speranza, colei che per prima colse Gesù nel cuore e tra le braccia, che sempre e fedelmente lo ha seguito, colei che più di tutti ha partecipato alle sue sofferenze e colei che più di tutti condivide la sua gloria. Ecco questo ci riempie di consolazione, San Paolo ci ricorda il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Abbiamo bisogno di volgere di tanto in tanto gli occhi al cielo, perché tutti conosciamo la fatica del cammino, sappiamo che in certi momenti lo sconforto e lo scoraggiamento bussano al nostro cuore, specie quando cadiamo nuovamente, quando ci sembra che tutta la fatica profusa sia inutile, quando ci sembra di non vedere i risultati del nostro servizio o della nostra pastorale, quando ci sembra che non ne valga la pena, volgiamo gli occhi al cielo, invochiamo Maria, pensiamo la gloriosa in Dio e vicina a noi. Si racconta che una volta un missionario tornò in patria dopo più di trent'anni di missione. Atterrato con l'aereo vi erano soltanto i familiari e pochi amici ad attenderlo. In contemporanea atterrò poco lontano un altro aereo e scese un famoso cantante, una platea era lì pronta ad accoglierlo con striscioni e grida dei fan. Il missionario si sentì un po' scoraggiato e nel suo cuore disse signore però mi sarei aspettato qualcosina di più. Con questo lieve e rammarico nel cuore andò a letto e fece un sogno come può capitare a tutti. Vide il signore risorto che gli sorrideva e gli chiese figlio mio perché sei triste? Eh signore, pensavo che tornando a casa mi aspettasse qualcuno in più e Gesù sorridendogli gli disse figlio mio ma tu ancora non sei tornato a casa, vedrai quando arriverai cosa sto preparando per te. Ecco la Vergine Maria brilla come segno di consolazione e di speranza e ci invita a camminare. Ora alla luce della liturgia di oggi, in particolare del Vangelo della Visitazione, cerchiamo di entrare un po' più in profondità questo mistero soffermandoci un momento sulla frase che Elisabetta dice a Maria e poi brevemente cogliamo un punto dal Magnificat. Maria va dalla cugina Elisabetta seguendo l'input dell'angelo. Entrata nella casa di Elisabetta, Elisabetta fu riempita di spirito santo. Il bambino le sussultò nel grembo e disse a che debbo che la madre del mio signore venga a me, beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del signore. Ecco come viene dipinta la Vergine Maria, come colei che ha creduto nell'adempimento della parola. Ecco la Vergine Maria prima di concepire fisicamente Gesù lo ha accolto in sé per mezzo della fede, cioè Maria ha accolto detto di sì alla parola di Dio che le è arrivata per mezzo dell'angelo. Maria ha accolto la parola, questa parola si è fatta carne. Potremmo dire che Maria ha accolto in lei il cielo non soltanto una volta, cioè Maria non gli ha detto solo sì una volta, ma tutta la sua vita è stata un continuo sì alla parola di Dio, è stata un continuo seguire Gesù, un continuo vivere intimamente unita a lui. Ed era dunque ben giusto che alla fine della sua vita il signore l'accogliesse presso di sé senza che vedesse la corruzione del sepolcro. Ora cosa accogliamo da questo? Una cosa bellissima, vedete? La Vergine Maria in ogni istante della sua vita, per dirla in modo semplice, si è lasciata assumere nella volontà di Dio e alla fine della vita è stata assunta al cielo da Dio. Come dirci quanto è bello e prezioso accogliere la parola, lasciare che questa parola radichi nei nostri cuori, li cambi e vivere corrispondendo a questa parola, vivere secondo questa parola, cioè noi possiamo vivere sulla terra ma secondo il cielo nella misura in cui seguiamo la parola del Vangelo. Qualcosa di bellissimo, capiamo allora che seguir la parola del Signore, vivere facendo la sua volontà non toglie nulla ma dilata lo spazio della nostra libertà e ci spalanca l'eternità. Secondo punto, Maria al sentire queste parole, tripudia di gioia e proclama il Magnificat, quest'inno di lode meraviglioso che ci mostra veramente il cuore di Maria. Ed è bello soffermarci sulle prime parole del Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ecco Maria magnifica il Signore, potremmo dire lo fa grande, lo esalta. Vedete miei cari, alla Vergine Maria di certo in quel momento non mancavano i problemi, anzi umanamente parlando ne aveva di grossi. Avrebbe dovuto ancora spiegare a Giuseppe l'origine della sua gravidanza e affrontare le eventuali conseguenze qualora lui l'avesse denunciata. Ma la Vergine Maria è piena di gioia e magnifica il Signore. Non si ripiega sui suoi problemi, non si chiude nelle paure, ma esulta ed esalta Dio. Perché? Perché Dio è grande ed esalta le grandi cose che gli ha fatto. E noi ci potremmo chiedere quanto spazio ha la lode nella nostra vita? Quanto poi ringraziamo anche Dio per le cose che fa per noi, per ciò che ci dona, per ciò che ha fatto nella nostra storia, per la sua misericordia, la sua cura, la sua tenerezza? Se dimentichiamo il bene, se il cuore si chiude nel lamento o la nostra preghiera si riduce solo a richiesta, il cuore si inaridisce. La Vergine Maria magnifica e loda Dio per ciò che Egli sta compiendo in lei e per ciò che ha compiuto nella storia. Un Dio che ama tutti e si schiera in particolare dalla parte dei poveri, degli umili, degli esclusi. In conclusione, cari fratelli, care sorelle, chiediamo alla Madonnina, porta del cielo, che ci aiuti a fare anche noi la volontà di Dio nella nostra vita, a dirgli i nostri grandi piccoli sì ogni giorno, a magnificare il Signore e ad avere un cuore grato. Perché tutto ciò accada abbiamo bisogno di chiedere a Maria che ci aiuti a crescere in una virtù che la contraddistingue in modo particolare, nell'umiltà. Infatti riusciremo a lasciarci guidare tanto più facilmente da Gesù, tanto più saremo interiormente poveri, umili, consapevoli che Lui è il Signore, noi le creature, che non è Lui a dover fare ciò che noi gli chiediamo, ma siamo noi chiamati a seguirlo e a fare ciò che Egli ci chiede. Proprio come ci ha lasciato in testamento la Vergine Maria, fate tutto ciò che Lui vi dirà. E abbiamo bisogno di umiltà per imparare a magnificare e lodare Dio, decentrandoci dai nostri problemi e vivendo per la Sua gloria, per magnificare Lui, per essere la Sua lode e saremo la Sua lode, ci ha ricordato Sant'Agostino, se vivremo bene. Che il Buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!